Unica Sim è un intermediario finanziario indipendente che opera sui mercati dal 2001, è autorizzato ad erogare servizi di investimento secondo tutte le lettere autorizzative fornite dagli organi di vigilanza, pertanto eroga servizi di investimento in conto proprio, eroga servizi di investimento in conto terzi, consulenza e collocamento con una rete di promotori finanziari e adesso si sta attrezzando con delle unità interne, anche a seguito del decreto 83 del 2012 che permette di fornire servizi alle imprese in maniera più strutturata e a livello più consulenziale. È presente all'Expo di Borsa Italiana per presentare le proprie piattaforme di negoziazione e pertanto si rivolge a una clientela professionale di trader, esperti e siamo qua per presentare i nostri prodotti. Unica Sim è una sim piccola, noi abbiamo un servizio che si basa sostanzialmente sulla qualità e sulla velocità dell'erogazione del nostro servizio attraverso le piattaforme. Unica Sim ha storicamente una propria piattaforma proprietaria che è MTS, recentemente abbiamo deciso di ampliare l'offerta alla nostra clientela e abbiamo messo in listino altre due piattaforme estremamente conosciute dai trader che sono Sfera e Scalptool che saranno nel giro dell'anno inserite nella nostra offerta per i clienti trader e scalper. Sono tre piattaforme, come le dicevo prima, estremamente performanti che permettono di dare stabilità e velocità di accesso ai mercati.